Quindi vedere un pezzo del museo del presepe di Gandino a porta a porta vi ha riempito di soddisfazione? Esatto, è stata una novità, un colpo al cielo sereno, quello di poter prestare uno dei presepi più grandi esposti e quello più rappresentativo del nostro comune, proprio perché è rappresentata la piazza. Ricordo che di tutto il plastico è solo metà che è andato in studio a porta a porta. Ovviamente per il museo è stato importante, anche per il gruppo amici del museo, siamo una ventina di volontari, è stato un modo per rivivere con gioia e con speranza questo periodo di restrizioni. Siete preoccupati che possa tornare integro dopo la trasferta? Sicuramente i trasportatori si sono attrezzati con i migliori dispositivi affinché non torni danneggiato. Eventualmente tireremo la giacca al presepista che lo realizzò nel 2008 e chiederemo di poter restaurare il presepe. Non è stato semplice, ma ora siete soddisfatti? Sicuramente sì, è stata un po' una corsa contro il tempo, un fulmine a ciel sereno, però siamo stati fortunati, abbiamo portato questo nostro presepio molto rappresentativo della Valle Seriana in modo particolare, ma di tutte le piazze della Bergamasca, perché abbiamo portato il nostro presepio rappresentativo della piazza di Gandino, e pur avendo faticato, tribulato per poter allestire questo presepio in studio di porta a porta, la soddisfazione è stata enorme quando sia Bruno Vespa che i collaboratori ci hanno dato molta soddisfazione, perché il presepio è piaciuto molto e rimarrà appunto in studio fino al 22 di dicembre e questa è una grossa soddisfazione. Una bella soddisfazione, Fiorenzo. Sì, devo dire che dopo 29 anni di presepi sparsi per tutta la provincia, sparsi anche per l'Italia, ci ha riconosciuto con grande soddisfazione l'idea e il merito di portare uno dei nostri presepio in quel di Roma, negli studi RAI. Dunque con gli amici ci siamo organizzati anche velocemente a preparare il nostro prezioso carico per Roma e siamo molto soddisfatti del fatto che il nostro presepio sia arrivato nel capitale. Certamente questo ci darà da stimolo, quest'anno siamo fermi per il problema che tutti sappiamo, sarà da stimolo per fare bene il presepio numero 30. Il tema, come avevo già anticipato mesi fa, sarà a Stino, un lavoro piuttosto complesso perché l'architettura e anche il monumento è importante, però pensiamo poi di regalarlo giù come abbiamo fatto negli ultimi anni. Non ultimo, quello dello scorso anno che è stato montato, lo stanno preparando montato per il periodo natalizio, alla Madonna della Corna Biusa. Dunque chi vuol vedere ancora i nostri presepi, ne abbiamo fatti 29, non andrà a cerete ma avrà modo di girare parecchio a vedere tutti i nostri presepi allestiti in tutta la provincia di Bergamo.